Giornate benvenuti, oggi lunedì 23 novembre del 2015 ci prepariamo per il giorno del ringraziamento, per il Black Friday, Cyber Monday, insomma gli americani si preparano a fare spese ma possiamo batterli sul tempo perché oggi si festeggiano i 5 giorni di Amazon e quindi anche in questo momento per tutta la giornata saranno in corso delle vendite flash e delle offerte speciali su centinaia di prodotti se siete clienti Amazon Prime tra l'altro potete accedere alle vendite flash in anticipo rispetto a tutti gli altri clienti, approfittatene perché ci sono davvero un sacco di occasioni ma a proposito di occasioni intanto parliamo di quello che sta per arrivare, Samsung a quanto pare è pronta a rilasciare una serie nuova di Galaxy A3 e Galaxy A5 ha pubblicato proprio in queste ore negli Stati Uniti un nuovo spot pubblicitario per il caschetto della realtà virtuale, quello che arriva in vendita al prezzo di 99 dollari e che probabilmente sarà uno dei regali interessanti per il prossimo Natale, prezzo dimezzato quindi ovviamente l'offerta diventa molto interessante peraltro Samsung ha già abbassato di 100 euro il prezzo del Galaxy View negli Stati Uniti, pensate che negli Stati Uniti oggi si compra questo tablet da 18 pollici di display al prezzo di 499 dollari da noi ancora non ci sono stati ritocchi di prezzo, vedo difficile che arrivino domani invece 24 di novembre ci sarà il lancio dei nuovi prodotti di Xiaomi, a quanto pare arriveranno il Note 3, il Note 2 nella versione Pro e non solo, probabilmente anche un nuovo tablet, vedremo se le offerte che si attendono saranno esattamente confermate qualche problema invece per quanto riguarda il mondo Nexus? nel corso del weekend abbiamo verificato che moltissimi degli Stati Uniti lamentano che il Nexus 6P abbia problemi di microfono ed il Nexus 5X lo sto provando io in questi giorni, purtroppo ha una batteria piuttosto limitata insomma non si riesce mai ad avere un Nexus che sia al 100% performante il prossimo anno invece potremo avere un prodotto molto interessante, si chiama Shift 5 Plus un prodotto modulare che potrà addirittura essere utilizzato o con Windows o con Android a piacere prossima informazione ovviamente nel giro di poco il prodotto sarà in prevendita a dicembre a 399 euro gratis come al solito alle 14.30 su Radio Number One c'è Mr. Gadget, buona settimana, ciao